Avremo figli e mogli e i nostri bambini giocheranno insieme come abbiamo fatto noi. Mille navi faremo salpare da qui, Efestione. Navigheremo intorno all'Arabia e risaliremo il golfo fino all'Egitto. Da lì costruiremo un canale nel deserto, fino al mare di mezzo. E poi ci sposteremo a Cartagine e quella grande isola, la Sicilia, ci pagherà cospicui tributi. E dopo, la tribù romana, grandi combattenti, li batteremo. E poi esploreremo le foreste del nord e le colonne d'Erable fino all'oceano occidentale. E un giorno, fra meno di dieci anni, Babilonia, con il suo immenso porto, sarà il centro del mondo. Le Alessandrie cresceranno, le popolazioni si mischieranno e viaggeranno liberamente. L'Oriente e l'Occidente si uniranno. E noi invecchieremo, Efestione. E dalle nostre torri contempleremo questo nuovo mondo.